ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video mi trovate all'interno della mia ferrari mondial 8 ragazzi non vedevo l'ora di fare un altro video all'interno della mia ferrari ragazzi ci è passato troppo tempo mi è mancato troppo la mia bambina niente volevo farvi questo video ho visto che il video che ho fatto sulla prova su strada la presentazione vi è piaciuto molto sono molto contento ragazzi vi ringrazio molto anche per i complimenti questo video andrò a fare quest'ultimo video voglio fare un video per chiarire che costi ci sono all'interno di questa macchina ok quindi i costi di gestione per quanto riguarda bolle assicurazione per quanto riguarda le spese di manutenzione ragazzi e per quanto riguarda anche il costo di acquisto di una macchina del genere ok allora per quanto riguarda il bollo ragazzi si vaga pochissimo io che sono qui a roma pago 30 euro ragazzi ma in molte zone d'italia ad esempio al nord adesso non credo in veneto non lo so neanche sente il bollo quindi se siete di quella zona neanche pagato il bollo io vi ripeto pago 30 euro l'anno per quanto riguarda la stipulazione ragazzi e questa macchina è scritta è iscritta registro storico quindi è asi e targa oro quindi pago 180 euro l'anno tutto l'anno completo quindi siamo proprio a posto per quanto riguarda le spese di di acquisto ragazzi lì comunque sia bisogna sempre prendere in considerazione l'ottica che stiamo parlando di una ferrari di una ferrari storica che più passa il tempo più sta diventando sta diventando rara ok allora la fascia di prezzo per una ferrari mondial io faccio esempio della mia la ferrari mondial 8 parte dai 36 38 mila fino ad arrivare ai 50 55 mila allora quello che vi dico questo prezzo ragazzi dovete prenderlo con le pinze perché ovviamente ogni proprietario ha il prezzo a sé e questa macchina l'ho acquistata nel 2018 in un'officina autorizzata ferrari al nord a pavia l'ho presa e l'ho pagata perché l'ho pagata l'ho pagata poco più di 30 mila euro quindi è stata una bella somma ragazzi e comunque sia però quello che dovete stare molto attenti perché io non voglio che voi fate gli stessi errori che ho fatto io un consiglio che vi do ragazzi quando prendete la macchina la prima cosa ragazzi cercate di trovare la macchina vicino casa quella è la prima cosa ragazzi perché se vi piace la macchina vedete una macchina molto lontano come l'ho vista io l'ho vista quasi 800 chilometri da casa mia è un film ogni volta che avete un problema con il proprietario ragazzi dovete stare sempre al telefono è una diattriba ogni volta ok quindi la macchina vederla possibilmente molto vicino casa è meglio ragazzi poi seconda cosa portatevi in operazione di fiducia ragazzi sempre portatevi in operazione di fiducia che ne capisca di questo mondo ragazzi che non serve che sia un meccanico ufficiale ferrari una persona l'importante che ne capisca dei motori poi se anche un po' ferrato in questo settore è ancora meglio ok che vi possa consigliare che possa provare con fuori la macchina ragazzi poi una volta che state dal venditore ragazzi fatevi dire tutto quanto lo storico della macchina ovviamente se hai gli anni anche certificati è ancora meglio come lì a questa ok ovviamente la prova su strada va fatta ragazzi ritornateci anche il giorno dopo o anche il giorno dopo ancora perché non dovete avere fretta se vedete che il venditore l'officina dove state prendendo magari oppure la sede dove state prendendo vi mettono fretta lasciate perdere perché c'è qualcosa che non va già con una macchina di queste di queste entità ragazzi le rogne stanno dietro l'angolo perché è una macchina che comunque sia il suo valore poi quando si parla di ferrari ragazzi i prezzi vanno vanno alle stelle io purtroppo questa è una cosa che me ne sono reso conto dopo ok io sottovole dato la cosa avevo due macchine storiche avevo una fiat uno turbo e un alfano giulietta nel 1981 e una punto cabrio ok ho venduto queste macchine perché giustamente ho dovuto prendere un finanziamento per prendere questa macchina le ho vendute quelle che avevo solo che mi sono fatto prendere troppo dalla foca della ferrari perché mi piaceva volevo una ferrari nella mia vita ragazzi io ce l'ho proprio qua nel cuore vedete ho anche la maglia guardate l'ho fatta anche personalizzare mondial 8 visto proprio sono proprio partito però io volevo una ferrari nella mia vita ragazzi è precisamente una ferrari storica perché io amo le ferrari storiche non perché le ferrari moderne non siano belle ragazzi però quello che ti trasmette una ferrari storica non te lo trasmette una ferrari moderna non parlo di velocità ragazzi perché io non ho preso questa macchina per la velocità io parlo proprio di sensazione di quello che ti trasmette del sound e le ferrari storiche ragazzi il sound che hanno non sarà mai comparabile a una ferrari moderna quello senza dubbio quindi quello che vi dico ragazzi è vi ripeto cercare la macchina vicino casa portarvi una persona di fiducia parlare molto bene con il venditore farsi dire tutto ragazzi la storicità della macchina i dagli andi i proprietari se magari potete mettervi anche in contatto con noi il precedente proprietario ancora meglio farvi dire tutto soprattutto per quanto riguarda la manutenzione ragazzi perché questa macchina dovete stare molto attenti dopo ne parleremo anche di questo allora per quanto riguarda il prezzo una cosa fondamentale ragazzi non voglio fare un video lunghissimo voglio essere molto blando allora il prezzo ragazzi quello che vi dico io il consiglio che vi do più spendete adesso più spendete in fasi di acquisto e meno spendete dopo perché se non voi andate a risparmiare sul prezzo di acquisto e andare a scegliere la ferrari mondiale più economica ragazzi quello che non spendete in fasi di acquisto lo spendete dopo ve lo posso assicurare ve lo assicuro su quello che ho di più caro è così è la verità ragazzi perché tanto qualcosa succede sempre non è che uno ve la vuole tirare per carità di dio perché uno dice compro la macchina come l'ho fatta io non vado a pensare che poteva succedere quello che mi è successo però io sono stato troppo negligente ragazzi troppo ok ho dato troppo per scontato dico vabbè dai che cosa vuole succedere ha un 3800 di aspirato non è una macchina biturbo che vuole succedere invece no errore gravissimo ragazzi che ne ho pagato che ancora lo sto pagando sulla mia pelle è quello quindi la macchina vi ripeto parlare col proprietario la storicità di taglianti tutto fatevi dire tutto e vi ripeto il prezzo più basso non vuol dire che la ferrari è quella più economica e più che avete fatto l'affare ragazzi perché ci può stare magari un proprietario che è un po più onesto diciamo vi prende magari in simpatia e vi abbassa un pochettino di prezzo ma lasciate perdere che ormai non vi regala più niente nessuno ragazzi quindi il consiglio che vi do io per non avere rogne che poi qualcosa c'è sempre perché in una macchina storica ragazzi ci sono sempre dei soldi da spendere qualcosa da fare c'è sempre poi quando si parla di ferrari ripeto ragazzi bisogna aprire il portafoglio e sono dolori ok quindi la macchina deve stare in ottime condizioni per quanto è possibile ovviamente parlarebbe con il proprietario con il venditore che ve la sta vendendo fate delle prove su strada fategli tutto tutto quello che potete chiedergli domande tutto quanto se potete farvelo lasciare anche per fare una prova su strada e tutto quanto alzarla sul ponte controlla sotto come stanno le perdite di olio tutto quanto per quanto riguarda poi la quindi quello che vi dico io il prezzo il consiglio che posso darvi ragazzi se trovate un mondiale a 38 mila e una 52 mila prendete quella 52 mila datemi retta perché quello che non spendete quello che non spendete in fase di acquisto lo spendete dopo e su questo è al 100 per cento ve lo posso assicurare perché l'ho pagato sulla mia pelle ok poi per quanto riguarda le spese di manutenzione ragazzi questa macchina è un 3.800 cilindri allora la distribuzione è comandata da due cinghie di distribuzione ok collegate con l'albero motore che fanno girare le due bancate le due bancate allora se voi andate a prendere il kit ragazzi normale che sono due cinghie di distribuzione due cuscinetti non ha un prezzo eccessivo ovviamente in un'officina autorizzata ferrari ragazzi vanno pagare il tutto quindi siamo all'incirca sui 1.500 euro per una distribuzione ragazzi che in casa ferrari si fa ogni tre anni all'incirca che poi detto tra me cioè se vi posso dare un consiglio ragazzi la macchina con le distribuzioni con le cinghie di distribuzione nuova dura molto di più però ferrari ragazzi devono dare il nome quindi sono molto più resti ok però il consiglio una volta messe le cinghie nuove e le avete messe ragazzi è non tenere la macchina ferma perché se avete la macchina ferma ragazzi è lasciata ferma sei mesi le cinghie rimangono ferme in quella posizione quando andate ad accendere la macchina poi questa fa un enorme sforzo le cinghie fanno un enorme sforzo per mercedes in moto perché comunque sia l'ottocilindri ha una bella compressione un 3.000 quindi le cinghie fanno uno sforzo in mane sono molto tese ok anche se non sono molto resistenti quindi il primo consiglio è non lasciare ferma la macchina la manutenzione è importante ok quindi fatevi dire tutto ragazzi cioè vi ripeto il consiglio è quello è molto semplice è spendere più in fase di acquisto che prima perché sennò li spendete tutti dopo che è successo a me ok persona di fiducia quando avete una persona di fiducia a fianco che vi può controllare tutto vi ripeto poi se è una persona che capisce anche di questo mondo ragazzi vivete tutto perché una volta alzata la macchina si può vedere ovviamente quello che si può vedere all'interno del motore il problema che è successo a me della testa quello non si poteva dire ragazzi però il mio meccanico per esempio quando ha portato la macchina a fargliela vedere ha sentito subito che la macchina girava fuori fase quindi subito da vista ok quindi vi stavo dicendo delle spese adesso un po dilungato vi stavo dicendo delle spese della distribuzione che siamo all'incirca sui 1500 euro 1500-2000 euro adesso non lo so di prezzo dei prezzi sto dicendo così eh in un meccanico in un'altra officina generica ragazzi il prezzo può variare dagli 8 a 900 euro però la distribuzione una volta fatta ragazzi in questa macchina state tranquilli io sto parlando per questo modello è il mondial 8 ok la pompa dell'acqua in questa macchina ragazzi gira esterna quindi non gira con la distribuzione ok ci sono due cinghie dei servizi perché in queste macchine storiche ma non solo in questa ferrari nelle macchine storiche ragazzi non è come le vetture moderne che hanno la cinghia polivi ok la cinghia polivi è una cinghia che fa girare tutti i servizi quindi pompa dell'acqua all'aria condizionata l'alternatore una volta ragazzi c'era una cinghia per ogni servizio in questa macchina c'è la cinghia che fa girare la pompa dell'acqua collegata all'albero motore ok poi c'è un'altra cinghia che fa girare l'alternatore e un'altra cinghia ancora se non sbaglio dovrebbero essere due no due se non sbaglio c'è un'altra cinghia che è collegata all'aria condizionata sempre all'albero motore quindi ogni cinghia ha un servizio ok io adesso nella meccanica polostro ciprico non lo so esattamente neanche io tutte quante le cose però in linea di massima ragazzi così quindi la manutenzione ragazzi per questa macchina è importantissima soprattutto i cambi dell'olio in questa macchina io all'incirca faccio due tre mila chilometri l'anno e l'olio lo cambia ogni anno nonostante che io non ci faccia chilometri perché una persona può pensare fai due mila chilometri l'anno l'olio ti dura una vita no ragazzi anche la macchina stando ferma l'olio si rovina uguale perché perde proprio le sue proprietà anche stando ferma poi quando la macchina sta ferma per tanto tempo si deposita in fondo la coppa l'olio e perde le sue proprietà stessa cosa per il livello del liquido l'acqua l'olio dei freni stessa cosa ragazzi ogni cosa ha la sua manutenzione quindi è importante molto la manutenzione per quanto riguarda poi un'altra spesa grande per quanto riguarda poi di motore una volta fatta la distribuzione ragazzi distribuzione il tagliando certo l'olio motore sono 9 litri nell'olio motore ci sono è grande un tremila ragazzi calcolate il filtro dell'olio quindi andiamo a mettere circa 9 litri e mezzo di olio nell'olio motore nell'olio del cambio ci sono circa 4 litri di olio quindi solo per la spesa dell'olio motore l'olio del cambio ragazzi parte un bel po ok poi le candele sono otto giustamente perché un otto cilindri e il filtro dell'aria quindi in fase di acquisto ragazzi dove la prendete queste cose vanno dette alla lettera perché dovete essere molto sicuri ovviamente se avete lo storio come vi sto dicendo come ce l'ho io è molto meglio perché almeno avete una pezza su cui partire dei lavori che sono stati fatti poi è normale ragazzi che più andiamo indietro con gli anni e più le cose si fanno complicare ma per il resto che la macchina bisogna vedere come è stata tenuta questa macchina di buono ma che avendo gli anni che ha ragazzi ha pochissima elettronica quindi avendo pochissima elettronica quello che c'è ragazzi non si può rompere ok il comando elettrico ragazzi si ai fari a scomparsa che si alzano elettricamente ma non è non ha sistemi di sicurezza perché qui non c'è bs non c'è erbeggio non c'è servo sterzo non c'è nulla ragazzi ci sono i vetri elettrici i comandi per rilassare tra elettrici lo stereo l'impianto elettrico normale di una macchina i vetri anteriori che sono elettrici ragazzi ma lì l'impianto elettrico è però per l'epoca comunque sia era una macchina di tutto rispetto ok però vi ripeto già se andiamo sul mondo questa è un mondialotto se prendiamo una macchina come una 355 ragazzi che ha molta più elettronica la ci sono già altri molti problemi perché se a parte una centralina c'è molta più elettronica ok ragazzi io vi parlo per questa quindi vi ripeto spesa di acquisto ragazzi sempre meglio puntare hanno una spesa più alta perché vi ritornano tutto indietro ve lo garantisco portarvi a presto una persona di fiducia che vi può visionare la macchina ragazzi la provate insieme la fatevi alzare la macchina con il ponte ragazzi mi raccomando alzate la macchina con il ponte per controllarla in tutto in tutti in tutti i suoi punti ragazzi cofani motori sotto nei passaruota dappertutto ragazzi fatevi fare fatevi soprattutto la manutenzione quando è stata fatta l'ultima volta ragazzi quella è importantissimo lo stato di usura anche delle gomme ragazzi in questa macchina nel mondialotto nel mondial quattro valvole c'è una grande problematica che le gomme sono millimetriche sono le trx sono le 240 55 vr3 90 le michelin sono gomme millimetriche che sono rarissime ragazzi oltre che da reperire ma anche per il costo di acquisto queste sono gomme ragazzi che ho cambiato tutte e quattro le gomme all'incirca ci vogliono circa 2000 euro l'ho presa sui 1.900 perché ho avuto uno sconto tramite un amico ok un mio amico commista altrimenti sono hanno dei versi folli ragazzi è vero che questa è una macchina e quando montate un treno di gomme non ha una cavalleria assurda quindi non è una macchina che sgomma di cassa ragazzi un treno di gomme ci fate un bel po ok io infatti le mie le ho cambiate per vecchiaia andavano ancora bene però ragazzi erano un po datate ho venduto quelle usate che avevo ci ho rifatto qualcosa però il prezzo è molto è molto ingente stiamo parlando di quasi 500 euro a gomma però purtroppo ragazzi sono molto rare queste gomme altrimenti per ottemperare a questa spesa dovrei montare dei cerchi da 16 con delle gomme normali però dopo c'è la spesa anche dei cerchi ok vabbè quello discorso a parte e niente ragazzi le spese le problematiche essenziali sono queste la spesa d'acquisto una persona di fiducia che vi controlli la macchina parlare bene con il venditore in maniera chiara e limpida di tutta la macchina ragazzi la macchina si vede oltre che vedere gli interni la mochetti tessuti la manutenzione quella importantissima ragazzi la manutenzione come è stata fatta ragazzi poi si può parlare anche con il precedente proprietario ancora meglio ancora meglio ragazzi adesso andiamo dietro al vano motore e vi voglio far vedere delle cose che nel video che ho fatto non ve l'ho fatta vedere del tutto ok qualche cosa ragazzi mi sono perso infatti vi dito scusa perché perdonatemi l'emozione ragazzi ma dopo due anni che non riprendevo più questa macchina ero veramente era andato veramente in brado di giugio veramente guarda stavo proprio fuori di testa sono stato molto contento che avrei apprezzato il video che ho fatto ebbene sono molto sono molto contento ragazzi ci portiamo dietro al vano motore e vi faccio vi do alcune delucidazioni ok amici questo ragazzi è il glorioso vano motore ferrari solo a guardarlo ragazzi è un quadro guardate è un quadro da qualunque angolazione lo guardiamo ragazzi è bellissimo guardate qui non fate caso qui ragazzi un po di ruggine a questa un po di fioritura esterna qui poi andrò a dare un po di vernice ovviamente coprirò il tutto ma solo superficiale ma è normale ragazzi guardate quanto è bello guardate l'unica licenza che mi sono concesso già come vi ho detto nel video precedente ho verniciato il collettore di aspirazioni che questo in origine era nero ragazzi io l'ho voluto fare rosso ho messo anche le targhette di identificazione vedete del liquido di raffreddamento queste le ho preso originali ragazzi la vaschetta come già vi ho detto in alluminio quindi è pressoché eterna anziché l'originale che è in ferro poi voglio farvi vedere ragazzi guardate all'interno del vano motore possiamo trovare la sua targhetta di identificazione vedete ragazzi ferrari questo è l'olio motore agip sint 2000 sai 10 50 e questo qui differenziale e cambio agip f1 80 90 ovviamente ragazzi l'agip sint 2000 non è più in commercio non lo fanno più ragazzi però la gradazione vedete 10 50 allora questa gradazione ragazzi 10 50 che cosa significa allora 10 è la gradazione a freddo ok 10 gravi 50 invece cosa più importante la gradazione a caldo a motore caldo questo è molto importante in queste macchine storiche ragazzi in tutte le macchine storiche non solo nel mondo ferrari la gradazione giusta ragazzi è sempre 10 50 o ancora meglio 10 60 infatti andrò a mettere quello di olio però vedete come sono ben illustrate guardate la sua targhetta ragazzi con olio motore olio cambio qui c'è ci si trovano le bobine attenzione altra tensione questi l'ho messi nuovi sono originali e qui possiamo vedere ragazzi la bancata che dà verso il cristallo qui c'è la bancata posteriore questo ragazzi mi correggo l'altro l'altro sbagliato è un motore posteriore centrale montato in maniera montato in posizione trasversale ok ragazzi posteriore centrale montato in posizione trasversale in questa in questo modo infatti le bancate sono una qui è un'altra bancata da verso il cristallo qui ci sono le due cinghe di distribuzione guardate lì in quella parte ci sono le due bancate vedete questa è la bancata qui posteriore e l'altra bancata si trova all'altra parte guardate in quella posizione vedete sono due pulegge ovviamente ci sono due in ogni testa ci sono due alberi a cammi di aspirazione e di scarico stessa cosa qui alberi a cammi di aspirazione e di scarico e le due pulegge le due cinghe ragazzi fanno girare con la comandata dall'albero comandata dall'albero motore fanno girare le due bancate vedete il filtro dell'aria questo è il sistema di iniezione k-getronic della bosch il vanotore ragazzi il suo filtro dell'olio qui in fondo ragazzi possiamo vedere se riesco a farvelo vedere qui in fondo c'è l'astina per il livello del can il livello del del cambio perché il cambio all'astina in fondo giù adesso non si riesce a vedere bene ma all'astina come il livello dell'olio qui questa qui è l'astina del livello dell'olio vedete ragazzi si tira fuori e qui c'è anche una spinetta questa spina si stacca la spina e si tira fuori l'astina dell'olio perché questa qui tramite il control check che vi ho fatto vedere vi segnala quando l'olio si abbassa è sotto il minimo ok vi lampeggia la spia e la stessa cosa c'è qua sotto adesso non riesco a farvelo vedere ragazzi perché il sensore del livello dell'olio qui è proprio la sotto però è lo stesso è lo stesso procedimento ragazzi è sempre una è come se mi durare il livello dell'olio motore nell'olio del cambio all'astina con la tracca ma graduata minima e massimo lì in fondo a sinistra ragazzi li potete vedere il radiatore dell'olio che si raffredda tramite le sue criglie laterali vedete qui da questa parte ragazzi a questa parte prende l'aria fredda che queste griglie come già vi ho detto ragazzi la mondial 8 è stata la prima macchina ad adottare le griglie laterali che poi questa funzione è stata adottata anche dalle ferrari successive ovviamente e anche dalla ferrari testa rossa soprattutto ok ritorniamo al nostro vano motore che ripeto ragazzi è scenografico per me io quando avrò questa macchina il vano motore è un quadro ragazzi lì in fondo a destra possiamo trovare il compressore dell'aria condizionata lì giù in fondo a destra vedete infatti lo trovo a ricaricare come già vi ho detto e per il resto ragazzi che dire faremo anche il video quando farò il tagliando ragazzi perché adesso il mio meccanico ha montato un olio 540 che è molto fluido perché io in questa macchina non ho rifatto il motore però sono state sostituite le fasce elastiche dei pistoni e le bronzine di biela di banco ovviamente hanno bisogno di fare un periodo di rotaggio ok finito ho fatto all'incirca sui 600 chilometri adesso quando sono arrivato all'intorno ai mille chilometri andò a scaricare sia l'olio del motore che l'olio del cambio ovviamente filtro olio ufi perché la ferrari montafiltri ufi come scritto qui come stampigliato qui sul filtro dell'aria vedete ferrari ufi perché la ferrari in origine montafiltri ufi due minuti ragazzi vi voglio far vedere un aspetto fondamentale che sono i pneumatici come già vi ho detto vedete sono i michelin trx 240 55 vr 390 cosa molto importante nei pneumatici ragazzi è l'anno di fabbricazione guardate che stampigliato dovremmo trovarlo proprio adesso mi sfugge è qui mi ruota con il telefono perché altrimenti non si riesce a vedere bene vedere questa sigla qui ragazzi 0 5 2018 vuol dire che questo programma di che è stato costruito la quinta settimana del 2018 questo è molto importante ok vi faccio dare un'altra infilertura al vano anteriore questa qui ragazzi è la ruota di scorta dove ci sono tutta quanta la sua serie di attrezzi la trussa di chiavi ok qui ci sono le due elettroventole come già vi ho detto questa qui è l'elettroventola quella originale che attacca 90 gradi questa qui ragazzi è sempre la stessa elettroventola che ho acquistato io originale ferrari e l'ho fatta mettere collegata manualmente tramite uno svuic interno ok qui c'è la batteria ragazzi che è in un posto abbastanza diciamo infognato perché per togliere ragazzi bisogna togliere la vaschetta lavavetre e questa partia che è divisa qui da una parte si toglie ok qui ragazzi in questa parte c'è vedete la parte che riguarda l'aria condizionata l'evaporatore ok poi qui c'è anche una dove era qui in questa parte guardate sì mi ricordo bene qui in questa parte c'è questa rotella qui questa qui serve per azzerare il service quando si accende le spia all'interno del contro check li possiamo vedere la pompa del servo freno corretivo olio e qui c'è la pompa della frizione perché in questa macchina separata non è come le vetture di erne che hanno il liquido dei freni in comitanza con il liquido della della frizione qui è separato ci sono due bombe ragazzi una che comanda la frizione e una che comanda l'impianto frenante e che direi ci siamo giunti al finale anche di questo video è un breve video ragazzi che ho fatto per darvi un illustrato generale poi ovviamente se avete dei dubbi mi potete scrivere sotto nei commenti non c'è problema ok io quello che dico sempre ragazzi è una cosa cioè cerco di dirvi le cose per non farvi fare gli errori che ho fatto io il miglior prezzo ragazzi non vuol dire che il miglior affare quindi levati la testa questo questo non vale solo per la parrari ragazzi per qualsiasi avventura storica se vedete una macchina dal prezzo più basso non vuol dire che quello è un affare ragazzi perché quello che non spendete in fase di acquisto lo spendete tutto quanto dopo ok questo è senza dubbio e niente ragazzi che dire io vi ringrazio moltissimo per i commenti vi sento molto vicino vi voglio bene a tutti mi mando un abbraccione grandissimo ragazzi ovviamente faremo anche altre prove su strada sulla macchina perché non è che ne è finita la mondiale hanno io la mondiale non vi abbandoneremo così facilmente ok se vi è piaciuto il video ragazzi mettere un like iscrivetevi al canale così avete sempre video aggiornati e che dire ragazzi dal me e la mia ferrani mondial è tutto ciao ragazzi